Il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani in occasione della giornata mondiale della sicurezza in rete che si celebra l'8 febbraio ritiene fondamentale divulgare pratiche appropriate per usufruire dei canali social e sensibilizzare i giovani all'uso corretto della rete. Il web negli ultimi anni sta diventando sempre più pericoloso per la navigazione dei giovanissimi. I banner apposti sui videogiochi sono trappole con cui moltissimi adolescenti vengono adescati dai siti pornografici. Ancora oggi molte famiglie non sono adeguatamente informate e vivono con superficialità il mondo virtuale. I minori tendono sempre più a violare le norme della privacy dei social costruendo profili falsi e navigando in modo spregiudicato in siti pericolosi. Tutto ciò si verifica sia per il desiderio di sentirsi adulti sia per l'emulazione di compagni considerati modelli da seguire. In base all'esperienza di molti insegnanti spesso alcuni genitori, specie nelle aree più periferiche arretrate, sono consapevoli del fatto che il profilo del proprio figlio è falso vista l'età inferiore a quella richiesta dalla normativa per l'iscrizione al social. Eppure minimizzano e a volte si compiacciono delle visualizzazioni dei like e di eventuali follower. Tanti ragazzi aspirano al successo facile, diventare influencer, star dei social, magari a novelle età artistiche si fanno riprendere mentre ballano e cantano, scattano fotografie, anche in ambienti non idonei come quelli scolastici in cui la vigilanza non può essere sempre garantita, ma soprattutto ignorano di commettere un reato mentre divulgano materiale audiovisivo non autorizzato e con contenuti compromettenti. Il comportamento dei giovani purtroppo è fortemente determinato dai condizionamenti di una società liquida in cui l'apparire prevale sull'essere. La Polizia Postale e delle comunicazioni da anni è impegnata nelle scuole per sensibilizzare le comunità educative sull'uso consapevole della rete. Il progetto Generazioni Connesse promosso dal Ministero dell'Istruzione è uno strumento importante per le modalità operative proposte e i consigli pratici resi a disposizione e le iniziative previste per la giornata mondiale.